Ultimamente sono successe tante cose, tanto nel nostro paese come nel mondo, che io avrei voluto fare dei video, però mi sono successe anche delle cose a me. Innanzitutto per più di 30 giorni ho avuto laringite, tracheite o faringite, faringite, non so, insomma ero rimasto quasi afonico, allora ho fatto degli short e poi vado a accendere il computer e si accende nelle BIOS e non riesco a uscire dalle BIOS, eppure un computer nuovo del 2022, marzo 2022, è incredibile, io sono andato a cercare di qua e di là nel mio portatile che è molto più semplice, è un Pentium del 2016, che io ho comprato nel 2018, pensavo che fosse del 2018 ma era del 2016. Sono riuscito a trovare la risposta nel sito della Microsoft, dovrei fare una reinstallazione del sistema operativo, però non è necessario fare una reinstallazione, basterebbe fare click in ripara, però sono pigro e indolente e poi dovrei trovare il codice del sistema operativo, perché altrimenti mi toccherebbe comprarne uno nuovo e quindi devo vedere se nel computer riesco a trovare il codice del sistema operativo, perché magari se reinstallo il sistema operativo con una ISO scaricata nel pendrive, non è importante che cancelli tutti i dati, perché tanto non ho nulla da conservare, anche le edizioni dei video passati, ma chi se ne importa, però non vorrei non avere il codice di proprietà del sistema operativo, che poi alla fine installo qualcosa e risulta che non ne sono il padrone, che devo pagare, perché altrimenti non posso accedere alle funzioni più importanti, attualizzazioni, a queste cose qua. E quindi so che ci sono cose peggiori con rispetto a quelle che mi sono successe a me, però insomma è brutto che succedano. Un computer che ancora adesso è inutilizzabile e poi io che non ho potuto proprio girare nessun video e qualche giorno fa ho caricato un video di appena un minuto sui miei cani che mangiano, i miei nuovi cuccioli. Per fortuna che è di un minuto e un secondo, perché l'ho filmato con il Motorola Age 30 Fusion, con la camera principale di 50 megapixel in 4K e ci ha impiegato dal cellulare, visto che ho il computer fuori uso, un'ora a caricare il video, capito? E se è surriscaldato il cellulare. Se io avessi girato 5 minuti di video, chissà quanto avrebbe tardato a caricare il video. Per fortuna che invece è di un minuto, così io so che dal cellulare conviene filmare con la camera principale di 50 megapixel dei video in full HD al massimo e non 4K. Poi adesso mi sto filmando con un'applicazione che si chiama kuwai cinese, ti tinge i capelli. No, perché molti mi dicono, ah, ma ti sei tinto i capelli. Sì, ma con un'applicazione. Vedete? Avresti fatto così dall'inizio. Allora vi ringrazio di seguirmi numerosi perché mi state vedendo, a prescindere dal fatto che non ho caricato dei video ultimamente. Vi ringrazio di seguirmi così numerosi, di essere pazienti con me e ci rivediamo. Spero di caricare del nuovo contenuto al più presto, il contenuto interessante, ma adesso già sto meglio.